Grazie a tutti. Nocco, fammi vedere una cosa. Bloccata. Loro vi puntano, diciamo, esplicitamente. Voi anche però cercate marito e quindi vedete se effettivamente sta succedendo qualcosa. Dai, non muori. Ok. Non puoi averci fatto il bagno. Pronti? Cinque, cinque sesta. Sara! Azione! Ma io faccio un po' più pianta. Ma io faccio un po' più pianta. Faccio un po' più pianta. No, non c'è più pianta. No, non c'è più pianta. Ma io faccio un po' più pianta. Allora, non cerco. No, no, questo non lo ripreso. No, 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 no. For a while now I can't stay, very far I can't stay, much longer, riding my decision home. Now there's a majesty at my doorstep, and there's a little boy in her arms. And we'll parade around without game plans, obligation or alarm in the dark. For a while now I can't stay, very far I can't stay, much longer, riding my decision home. Sì, la scena più difficile è quella che stiamo per fare però. Grazie. 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 Grazie.